Buongiorno a tutti, il lavoro che presentiamo oggi è relativo alla verifica di idoneità statica e sismica di una porzione di un fabbricato situato a Torino. Il fabbricato è tutelato dal piano regolatore di Torino in quanto fabbricato di importante valore storico in quanto è stato realizzato dall'architetto Caselli, famoso per aver contribuito insieme all'ingegnere Antonelli anche alla realizzazione della mole antonelliana. Il fabbricato è un monopiano costituito da pilastri a maglia regolari in mattoni pieni e setti perimetrali in muratura piena. L'orizzontamento è costituito da volte, sono volte di due tipologie, quindi volte a la ribassate e volte a botte lunettata. La particolarità è stata quella, in fase modellistica, di aver utilizzato tre differenti applicativi di Midas, quindi sono in fase 1, abbiamo utilizzato il Midas FX Plus per la modellazione geometrica, quindi partendo da geometrie semplici sono state realizzate poi le singole volte mediante elementi di surface che poi sono stati mesciati opportunamente in modo da ottenere una grande discretizzazione degli elementi per ottenere una corretta distribuzione delle sollecitazioni all'interno della struttura. L'orizzontamento di copertura è costituito da oltre 11.000 elementi, quindi una volta che è stata completata la geometria ed è stata mesciata correttamente il modello è stato preparato per essere poi esportato nel Midas Gen. All'interno del Midas Gen sono stati applicati carichi statici e sismici, quindi in questo caso particolare è stata adottata l'analisi dinamica lineare con spettro di risposta e il modello è stato quindi predisposto per essere poi esportato all'interno del Meso Recheck. Il Meso Recheck è il terzo applicativo che abbiamo utilizzato ed è quello che si utilizza per le verifiche di strutture in muratura di elementi modellati al continuo o di elementi modellati con elementi BIM. Nel nostro caso li abbiamo utilizzati entrambi, quindi all'interno del Meso Recheck vengono importate le sollecitazioni e le sezioni dei principali elementi resistenti oggetto di verifica, le caratteristiche dei materiali di progetto e vengono effettuate le verifiche. Io mi sono sempre trovato benissimo col supporto tecnico di Arpaceas, penso che ogni settimana almeno una mail le la mando e ricevo puntualmente risposta e quindi posso solo parlarne bene e consigliarla a chiunque. Sono ragazzi sempre preparatissimi, noi siamo diversi anni clienti di Arpaceas e quindi abbiamo avuto a che fare con diversi ingegneri. Devo dire che tutti quanti sono stati sempre preparatissimi e hanno sempre saputo darmi supporto celere, tempestivo e risolutivo dell'argomento, di qualunque argomento.